E la rispetta di tutti qua! E la rispetta di tutti qua! La classe imprenditoriale legata a quei partiti dove gli interessi sono la causa principale della morte dei lavoratori e dei cittadini. Oggi noi siamo qua per rifiutare questo sistema. Noi vogliamo riportare al centro i lavoratori e i cittadini che devono riconquistarsi una dignità sottratta da un pareggio di bilancio. Che lascia dalla parte le assenzioni e che crea precarizzazione ovunque e che racconta un sacco di pandonie rispetto all'occupazione che non esiste.